Parla tifoso partenopeo. Benvenuti in un altro video sul nostro canale, dove vi portiamo tutte le notizie e le voci sul nostro amato club. Oggi abbiamo una novità esclusiva che promette di scaldare il cuore dei napoletani. Parliamo di un giovane talento che potrebbe approdare nel nostro centrocampo. Prima di iniziare lasciate un mi piace al video e iscrivetevi al canale per non perdere nessun aggiornamento. Andiamo! La nostra squadra cerca sempre di migliorarsi sempre di più per portare buoni risultati. E l'attenzione ora è tutta sul centrocampo, un settore che ha avuto qualche difficoltà la scorsa stagione. Non è un segreto che il nostro centrocampo abbia bisogno di rinforzi. Anguissa, che un tempo era un pilastro, non è riuscita a mantenere lo stesso livello di prestazione. Poco convincente anche Cajuste e Piotr Zilinski in partenza per l'Inter. Di conseguenza, la necessità di rafforzare quest'area è diventata ancora più evidente. Ed è qui che entra in gioco il nome di Marco Brescianini. Il giovane centrocampista del Frosinone ha catturato l'attenzione di diversi club di Serie A. E il Napoli è tra questi. Giovanni Manna, il nostro direttore sportivo, sta lavorando instancabilmente per esaudire le richieste di coach Antonio Conte e portare nuovi talenti che possano rafforzare la nostra squadra. Secondo il quotidiano Tutto Sport, Brescianini è uno dei giocatori più richiesti del momento. Brescianini, nonostante la retrocessione del Frosinone in Serie B, ha fatto una prestazione eccezionale, incantando metà Serie A. Il direttore sportivo del Frosinone Angelozzi ha fissato il prezzo di vendita del giovane talento a 12 milioni di euro, di cui il 50% andrà al Milan. Oltre al Napoli, anche altri club come Fiorentina, Atalanta e Bologna tengono d'occhio il giocatore. A soli 23 anni, Brescianini ha un futuro promettente e potrebbe essere il tassello mancante per rivitalizzare il nostro centrocampo. La sua capacità di controllo della palla, visione di gioco e capacità di segnare gollo rendono un giocatore versatile e prezioso. L'arrivo di Brescianini potrebbe portare l'energia e la creatività di cui il nostro centrocampo ha così, disperatamente, bisogno. La trattativa non sarà facile, la concorrenza è forte, ma il Napoli è determinato a garantire l'arrivo di Brescianini al San Paolo. L'intenzione di Giovanni Manna è chiara, portare rinforzi di qualità che possano fare la differenza e portare il Napoli verso nuovi traguardi. Il lavoro instancabile del Consiglio dimostra l'impegno nella costruzione di una squadra forte e competitiva. Quindi, fan, cosa ne pensi del possibile acquisto di Marco Brescianini? È il giocatore di cui ha bisogno il nostro centrocampo? Lascia le tue opinioni nei commenti qui sotto. Vogliamo sapere cosa ne pensi di questa trattativa e come ritieni che Brescianini possa incidere sulla nostra squadra? Se ti è piaciuto questo video, non dimenticare di lasciare un mi piace e di iscriverti al canale per non perdere nessuna novità sul nostro amato Napoli. Attiva le notifiche per rimanere aggiornato su tutti gli aggiornamenti. Forza Napoli sempre!